Lo scontro tra Kiev e Mosca si fa incandescente anche sul fronte finanziario. Le autorità ucraine hanno aperto un'indagine penale sulle attività della principale banca russa. L'accusa contro Sberbank è quella di aver fatto da tramite per finanziamenti ai militanti filorussi che hanno preso possesso di alcuni edifici chiave nelle città orientali del paese. A confermarlo, il procuratore generale ad Interim, che ha parlato di indagini non necessariamente di natura penale nei confronti di altre 13 banche. Soltanto questo martedì i servizi di sicurezza avevano confermato trasferimenti per milioni di euro a favore di gruppi di militanti filorussi.